Nella prestigiosa location del ristorante Alfaro è stata presentata la squadra della Nuova Orizzonti Taranto, club che parteciperà al prossimo campionato nazionale di serie B femminile. La compagine Ionica in estate ha ratificato l'accordo per il trasferimento del titolo sportivo dalla palacanestro Parteno Pesantantimo al club Tarantino, un'operazione condotta dall'ambizioso presidente Francesco Cidiberti che fisso gli obiettivi per la prossima stagione. È un campionato che ci vedrà protagonisti, noi siamo partiti nella nostra programmazione iniziale senza puntare troppo in alto, però visto l'andamento della squadra, i buoni allenamenti che abbiamo fatto finora e le prime due uscite, io credo che possiamo ambire a un ruolo di protagonisti. Dopo il buon lavoro svolto nell'ultimo campionato a guidare la squadra della Nuova Orizzonti Taranto, che ha già iniziato il proprio cammino qualificandosi alla Final Four di Coppa Italia di serie B, ci sarà il Tarantino William Orlando. Già dall'anno scorso quando Cidiberti, Gigi, mi ha propinato la possibilità di allenare Taranto, non ho voluto ascoltare altri tipi di proposte, anche se avevo la possibilità di andare a Sassari a fare da assistente la 1 o altre situazioni, perché comunque dopo tanti anni tornare ad allenare una squadra di Taranto per me era un obiettivo principale. Sono contento di essere rimasto anche quest'anno e spero che questo progetto che abbiamo avviato sin dall'anno scorso possa comunque procedere diciamo come sta avvenendo su una strada che sembra in discesa, nel senso che tutte le componenti stanno andando nel verso giusto e speriamo che questa crescita sia una crescita costante. Fascia di capitano invece affidata alla cestista brindissina Francesca Gismondi. Che cosa ti aspetti da questa nuova avventura in rosso blu? Allora sicuramente ci aspettiamo tanto, speriamo di fare un buon campionato e in palestra stiamo lavorando tantissimo per cercare di ottenere i risultati. Nell'occasione sono state presentate anche le divise di gioco che le giocatrici indosseranno per le competizioni ufficiali. Alla cerimonia hanno partecipato anche il main sponsor Michele Riondino, il prof. Nico Monfredi per la Fondazione Taranto 25 e il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio.